Salve a tutti siamo qui con un nuovo video e in questo video continueremo a stare sulla mod della vita reale online ed in questo episodio ragazzi parteciperemo a un evento molto interessante organizzato dalla città di lo santo adesso non so da chi dovrebbe essere dalla discoteca unicorn ma oggi è una giornata speciale perché dovremo vestirci da carnevale quindi saremo in maschera e ci sarà una festa tutte le persone in maschera sarà qualcosa di incredibile dovremo però cercare di vincere un contest che hanno messo su gli organizzatori della festa in cui le prime tre maschere le prime tre migliori maschere vinceranno 10.000 dollari dobbiamo fare di tutto ragazzi per poter vincere ci troviamo vicino a un negozio di maschere ed è esattamente qua che cercheremo il vestito perfetto la maschera perfetta per questa festa di carnevale quindi adesso vediamo un attimo perché in realtà ok c'è la moto ce l'ho ancora perfetto dovrei incontrare un mio amico che è lo stesso amico di sempre ragazzi esattamente lì al negozio di maschere belli belli ah eccoti ah ciao sali sali mettiti il casco si andiamo diamo che già ci sono ci sono vestiti un sacco di persone in maschera ah ok sono già vestiti ah cavolo posso andare qua posso andare qua secondo te? si vabbè si io ci vado lo stesso dai 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 tranquillo vai vai andiamo andiamo a che ora era la festa? eh ora 5 minuti fa mi sa che è iniziata ah c'è molta gente salve belli vieni un attimo qua belli buonasera salve eh 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 ci sono ci sono allora io ho visto una bella maschera d'alieno guardami ah d'alieno ok ok si 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 eh eh? ah questa oddio ma non sei sicuro che sia d'alieno mi sembra più da tipo octopus qualcosa fa niente è un alieno un alieno ma non è la tua macchina quella non te l'hanno appena rubata la tua macchina no siamo venuti con la moto mi facciamo ah è vero no si scusa scusa andiamo andiamo ok vediamo le maschere che ci sono qua maschera vai ok vediamo quella la migliore oh mio dio aspetta è proprio bella con quella faccia da donna no aspetta vai più avanti no vai più avanti vai c'è un'altra variante ci sono altre varianti billy vedi vedi la più bella vai vai guarda aspetta ti faccio vedere c'hai ragione sono arrivati i power ranger wow sono molto belli sono sono molto bravi bello bel costume mi metto quello sportivo che ne dite ragazzi mi sembra il migliore quello sportivo eh si che ti ho fissato si si andiamo muoviti eh lo so la sicurezza prima di tutto sempre forza sicurezza sta passandosi i marciapiedi bravo dove è che dobbiamo andare vai avanti poi a destra eh vabbè ma intanto il casco ce l'hai eh vai vai avanti avanti aspetta che c'è uno stop c'è uno stop e devo fermarmi oh l'ultima volta mi hanno fatto il mi hanno detto di tutto i poliziotti cavolo qua 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 sì dai vinco vinco dai 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 corri 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 ok c'è sei sicuro che c'è sì sì ma vediamo un pochettino perché un po' non mi vesto da tanto in maschera cavolo quanta cose quante robe che hanno qua uh questo è bello sì no a me si sa che è finito eh vai 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 tranquillo ma come da bigfoot mettiti una bella giacca e dopo ci sono i peli che escono oh bella quella no aspetta aspetta cosa qual è la bella giacca coi peli vestiti da fallout vestiti da fallout che anche quella è bella questa sì pure dietro qualcosina ho visto qualcosa di bello ecco questo è fighissimo belli mi piace questo onestamente sembra anche bianca non è male vero bello scegli tu dipende da te chissà che pantaloni sono quelli giusti per questo outfit cavolo forse questi ma ci sarà qualcosa no vedi vedi bene vedi ok forse così va bene ma che maschera mi metto qui sopra ho una maschera brutta una maschera brutta sì sì è brutto una maschera brutta il tuo è perfetto eh grazie eh sono molto bello eh guarda gioppico pure vai vai bellissimo oh cavolo come se mi so piovere oh mio dio quanto piove quando è brutto quello vai 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 il casco il casco eh c'è la maschera c'è la maschera Enea dai 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 prima che finisca l'evento vai 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 allora prendi la maschera e dopo ti spiego io eh guarda questa guarda questa guarda questa per te è perfetta è perfetta dov'è aspetta aspetta eh no lo so trovala è bellissima questa secondo te è colore verde o di un altro colore all'alieno verde 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 allora ti dico cosa devi fare una volta che hai scelto la macchera questa cosa ti sembra no forse no no secondo me è meglio quell'altra sì 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 vai questa no vai dietro vai vai sta qua pure cambia colore sì sì bella questa questo sì vai perfetto questa dimmi dov'è mettimi il navigatore verso il punto dimmi dov'è andiamo andiamo non siamo molto distanti non è il massimo con questa moto la pioggia eh come sono sono bello sei perfetto sei perfetto peccato secondo me dovevi dare abbiamo avuto poco tempo per farti vestire Giulio io vevo le idee chiare tu magari non molto forse eh no no eh no mi affidavo a te per le maschere hai detto tu che eri il king della maschera king della maschera una volta quando ero giovane lo sa che beh la tua è bellissima di maschera ma tu che sei eh potremmo vestirci tutte e due però eh tu che sei boh non lo so eh io sono vengo dall'anno 2133 e beh dopo un escorio nucleari e tutto quant'altro bene parcheggi 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 chiamoci qua che guardano ho intasato il posto delle moto ma io boh vai andiamo 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 ok vai 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 uff ce l'abbiamo fatta buonasera salve buonasera buonasera salve buonasera si paga per entrare signori signori ha pagato lei dov'è a chi dovrei pagare a me al clown ma come facciamo a sapere pago io per lui io sono l'organizzatore sono l'organizzatore oddio va bene ai signori devi pagare eh ma glielo date a chi chi se ne è presi ah io io a me lei dà allora paghi lei paghi lei paghi lei pago io venga qua venga qua sono idoneo per la festa io è idoneo idoneo vada vada ecco ecco ricevuti i soldi siamo pronti possiamo andare grazie grazie ma secondo te che farà quella marzo il clown ma che ne so io infatti ah la conosciuta eh dimmi oh mio dio c'è gente a terra come siamo finiti qua aspetta vado a prendere da bere vado a prendere da bere c'è il barista barista voglio da bere chiamo al barista chiamo al barista no ma no no ma così salve salve dov'è dov'è il barista qua qua vogliamo da bere da bere qui no che controllo da bere da bere salve news police è lei che da bere alla gente no 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 c'è l'inversione dov'è dov'è quello che da bere oh ma che fa questo vorrei un martini un martini se non è problema un martini mamma mia per favore qua qua un martini qua ma ho levato il cappello sto merda qua un martini no no che sta succedendo lì ah ah fa parte della festa un martini qua per favore signore salve un martini qui salve gente tutto bene eh grazie eh sì quello va bene come va ti stai divertendo brown guarda come mi muovo mamma mia ecco qua ah 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 qui per favore un martini grazie quanto è come 5 dollari eh che grazie non la sento molto bene grazie grazie mille oh oh un martini oh oh mio dio bravo quel martini era un po' troppo forte era un po' troppo forte eh penso io che ne bevo tre ora aspetta eh oh mio dio un po' una forte due tre giù 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 eee madonna mia oh mio dio eh che tu non stai messo tanto bene eh brown salve burger man oh burger salve ciao burger man ciao come stai questo è il mio amico braun mello sto infame chimica questo è il mio amico braun mello ah 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 ma cazzo c'è buono cos'è mi prende in giro che sta ridendo sta ridendo di me ma sta ridendo ora l'ho piccola non lo so io me ne vado braun vieni qui vorrei ballare sul pubo come tu e gli uomini la andiamo a ballare anche noi tani pittolati bevuto nooo ok vediamo come ballare intensità più forte e qui si possono vedere insomma la situazione come all'interno eccola wow uh lo sento arrivare lo sento la volta il nero eccolo 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 sento il nero da dietro guardami giulio guardami giulio guardami giulio questo nome di battesimo tuo guardami bellissimo guardami faccio un ragazzo incredibile wu scusi c'è un bagno qui oh mio dio si in fondo a sinistra nooo si ha stoppato la musica si ha stoppato la musica oddio si leva da quella la musica vogliamo la musica è diventato un documentario ma che cazzo è questo dj booo booo andiamo giulio andiamo sulle casse guardate che figata la gente in maschera tutte le persone mascherate bellissimo appagliante salire per fare qualche foto una ripresa magari prima pagina signor Pintolazzi si si venga venga anche gli uomini colorati allora signori accorrete accorrete in quanto adesso ci sarà l'elezione dei cinque costumi più belli e dopodichè e dopodichè dopo questi cinque costumi sarà eletto il podio si fate bene attenzione alla luce che illuminerà le persone partecipanti mi girò un po' la testa per favore tutti i partecipanti si collochino all'interno della pista da vallo eccoci siamo tutti qua ok beh ci sono alcuni che veramente vincono decisamente più di noi probabilmente tipo quelli lì con la master spaziale bellissimo il primo costume che si che supera la prima fase oh mio dio eh oh mio dio l'alieno che sta ballando là sopra si braun oh dio hello oh no per favore tutti quelli che chiamo devono devono salire sul palco a passare la seconda fase e quindi avere la possibilità di vincere il premio in danaro per questa sera è il signore cosmo e quale dei due tutte e due tutte e due partecipate giunti con giunti siete una persona la terza persona ad avere la possibilità di vincere il premio in tanti danari potremmo essere noi di questa serata è oh mio dio cavolo speriamo di aver scelto bene il signore con l'hamburger a posto della testa no oh cavolo non abbiamo vinto ragazzi ciao hamburger e ora e ora che succede sono quelli lì eccoli lì quei quattro il quarto signore a partecipare alla prima fase di eliminazione è chi sarà chi sarà chi sarà la signorina vestita da un robot che non conosco ok ma quella è mazzinca z versione procediamo più velocemente rimangono ultimi due posizioni dopodiché tra questi selezionati saranno eletti i podi anche lui è tutto luminoso non so se avete notato abbiamo cambiato il regolamento al volo si direi il prossimo ad essere eletto tra nella prima fase quindi a passare questa fase ad avere la possibilità di vedere è il signore vestito con tutto verde polizia ah tu 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 vedi Buzz Lightyear ah Buzz Lightyear non tu tu vedi lui non venga venga dove va mi rimasto male venga signore ah no è l'altro non te è l'altro venga signore deve salire sul palco lei ne è rimasto male rinuncia ti fa rinuncia salga sul palco tu con la tutta verde ne è il signor Buzz Lightyear ah no giornalista l'ultimo ad avere la possibilità l'ultimo dai ho fatto così schifo può essere di vincere il premio di 70 milioni di doni è Buzz Lightyear voglio far notare voglio far notare come l'unico che si sta divertendo qua è il mostro con un occhio solo che è l'unico che balla si ferma basta non mi chiamare mostro perché la canzone non è soft nei sentimenti è anche il mostro calma calma eccomi l'ultimo a vincere la possibilità è Buzz Lightyear è lui dietro di me insomma fare quello che già sapete chi è? chi è? chi è? con la maschera a gas che sembra Mad Max non si sa che dove viene si ole oddio ma ma fa' culo però sono io l'ultimo sono io l'ultimo vincitori tutti a centropista soltanto vincitori io non posso essere il vincitore però comunque tutti a centropista ok vediamo un attimo soltanto per favore di quelli che sono vanno passati la prima fase mi fa una cortesia i morti e le persone così vede meglio io sono quello che non si sa dove niente è simile a Mad Max è un po' complicato allora la file alluce non ho capito noi saliamo voi rimanete qui noi saliamo un complimento ma che faccia simpatica da bugger ah ma così vado bene grazie perfetto si vede? mi sentite? non l'ha neanche versato yes ragazzi dietro dietro dai che sale la musica non mi saltare a tosse non fa male le manno su Marte se mi continua a stare allora signori siamo arrivati alla resa dei conti siamo per eleggere i vincitori il vincitori di questa sera i sei finalisti per favore mantenete la calma cosa sta succedendo? terzo posto ci aggiunti potete ricordare premi? il terzo posto è? quanti dollari? è un panettone gastronomico il panettone gastronomico dal valore di mille dollari che panettone è? a vincere il panettone gastronomico a vincere dal valore di mille dollari wow al terzo posto è? oh la suspense momento di suspense oh mio dio e niente e niente non si sa rullo di tamburi te l'hai già mangiato sì ma questo è mango l'alieno buon appetito buon appetito l'alieno il secondo posto di questa bellissima festa di carnevale con un premio vi ricordate il secondo premio invece? sì era un tablet della itron un tablet della itron dal valore di 5000 dollari non sarò mai io non sarò mai io il robot vince il secondo premio il robot complimenti al robot per il secondo premio ma signori adesso abbiamo il primo premio oddio mio aia oddio è il primo premio mi ricordate qual è il primo premio del primo premio? si il primo premio è incredibile è un weekend per due ma come? dall'amore nella capitale della Birmania bellissima canzone questa va questa alta ad aggiudicarsi un weekend per due ma che cos'è questa? nella capitale della Birmania dal valore di 10.000 dollari chi sarà? il cosmo e viva i cosmi e schere e schere ho comprato la vasella complimenti ai cosmi sono belli sono belli ragazzi come mi fermo come mi fermo come mi fermo oddio forza andiamo nel VIP potete entrare nel VIP no sono al VIP guardate bellissimo purtroppo non ci ah ok ci entrano anche gli altri oh le voroi di Cristo ma di cazzo ho bagnato il cazzo ma lei è proprio lei è proprio un boss seguiti tutti Riccardo oh mio dio quanto è bella questa cosa oddio adesso parte il drop parte il drop parte il drop oh mio dio è strabello oh cavolo oh cavolo alimentazioni è stato un onore mi pagano la canzone quindi me ne vado arrivederci beh ragazzi io direi che terminiamo qua questo episodio quindi grazie a tutti della visione lasciate un like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi per nuovi episodi sulla vita reale online e in descrizione c'è il link come vi ho già detto nello scorso episodio per il giveaway che sto facendo di una Playstation 4 Pro basta seguirmi su Instagram e uno di voi sarà il fortunato vincitore di una bellissima PS4 detto ciò grazie ancora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti